Porta a porta è la chiave del successo per la raccolta differenziata. Ne sono convinti gli amministratori di cogeme e gestioni e di sindaci dei comuni virtuosi sul territorio bresciano. I dati alla mano sembrano dar loro ragione nei comuni dove si applica la raccolta differenziata porta a porta. Le percentuali di rifiuti riciclati salgono oltre il 70% come ad esempio a Cazzago San Martino che con il 79% si attesta come comune più efficiente della provincia di Brescia. La scelta del porta a porta è arrivata dalla verifica di alcune esperienze vicino a Treviso e da una proposta poi raccolta da cogeme e tradotta sul nostro territorio. Mi sembra di vedere un servizio che oramai tra la gente è passato, accolto, ben accetto e credo anche con una certa convinzione. Un successo di strategia per cogeme e gestioni che gestisce la raccolta in quattro dei primi cinque comuni ed in undici sui primi venti della classifica dei ricicloni. Qualcuno teme che sia un passo indietro, un ritorno a una modalità gestionale del passato. Noi crediamo che non sia così, i dati lo dimostrano, la gente è contenta, i risultati sono arrivati, la riduzione dei costi è ormai un obiettivo che stiamo centrando. Credo che davvero tutto questo, unito ovviamente al grande obiettivo della sostenibilità delle nostre vite, fa di questa scelta una scelta vincente. Tuttavia molto ancora resta da fare la nostra provincia. È ancora firma da anni, al di sotto del 50%, attestandosi assieme con Pavia, la peggiore provincia lombarda, per la raccolta differenziata. Dove è stata applicata, ricordiamo, 100.000 abitanti circa in questo momento serviti col nuovo metodo di porta a porta spinto, ha raggiunto tutti i percentuali superiori al 70%, raggiungeranno tutti i percentuali superiori al 70%, dove invece viene mantenuto il cassonetto o altri tipi, si fatica a superare il 40% di raccolta differenziata. Diciamo perché, quali sono le prospettive, è auspicabile naturalmente che la raccolta differenziata possa essere implementata, sicuramente comporta delle abitudini diverse per i cittadini che talvolta possono essere anche ritenute, come si può dire, fastidiose nella raccolta differenziata. È più facile buttare in un cassonetto, indubbiamente.